Questa è la nuova Ferrino Piuma, la tenda da trekking più leggera mai prodotta da Ferrino. Adesso insieme ne vediamo pregi di effetti all'interno della recensione completa. Il montaggio della tenda non è dei più semplici e bisogna un po' prenderci la mano. Il telo interno e il telo esterno sono preassemblati, dunque questo rende semplice il montaggio. Non dovremo fare altro che andare a inserire la palieria nella parte superiore in modo tale da dargli la forma di tenda e successivamente andare a picchettare tutti i picchetti per garantire la sua forma a tunnel. Facciamo il nostro consueto giro attorno alla tenda insieme alla porta anteriore dove troviamo la porta su cui adesso ritorniamo. Ma voglio subito farvi vedere l'altezza di questa tenda perché guardate da confronto a me, io sono alto 1,90 m, diciamo che l'altezza della tenda comunque non arriva a 90 cm nel punto più alto, quindi è una tenda veramente bassa. Vi faccio vedere la parte superiore della tenda, quella dove troviamo la parte più grossa. Cosa abbiamo? Beh, oltretutto i tiranti naturalmente per poter andare a tensionare la tenda in modo tale che abbia la sua forma, troviamo sia nella parte di destra che nella parte di sinistra degli ulteriori tiranti da andare a tirare nel momento in cui c'è tanto vento per stabilizzare la tenda. Ne troviamo uno anche poi a metà della nostra parete dove troviamo anche il primo bocchettone per l'aria in modo tale da far uscire tutta l'umidità e in generale comunque garantirle a reazione. Ce ne sono due, il secondo lo vedremo dopo. La parte speculare opposta dove abbiamo messo prima la porta è questa qua ed è praticamente vuota, non c'è nulla, davvero nulla. C'è la fine del palo di paleria che sostiene la tenda ma non c'è null'altro. È completamente spoglia la tenda. Sulla parte finale invece troviamo una geometria a triangolo. Praticamente troviamo le due parti laterali dove noi andiamo naturalmente a picchettare la tenda per dargli la sua forma. E poi troviamo una parte finale da andare a picchettare una tale proprio da poterla tirare per bene la tenda. Come vedete qua il punto finale è un pochino più alto perché c'è l'ultimo palo di paleria, in questo caso è completamente verticale. Visto che siamo qua vi voglio far vedere anche le cuciture perché troviamo tutte e doppie cuciture soprattutto nei punti veramente nevralgici dove c'è ad esempio la punta del palo le cuciture sono fatte veramente bene. E poi dove abbiamo tutti i punti più soggetti a pressione troviamo anche un doppio tessuto in modo tale proprio che la pressione sia ben distribuita. Devo dire che sicuramente dal punto di vista cuciture e materiali ferrino questa piuma l'ha pensata veramente bene. Ma torniamo sulla parte anteriore di questa tenda iniziando a parlare della porta perché la porta è solo una. Se è la sua versione da un posto che la sua versione da due posti è solo una. Troviamo una porta che si apre per un 50-60 cm quasi fino alla sommità del palo che va a sostenere la tenda. Una porta che devo dire comunque è abbastanza larga nel senso che una volta aperta è sicuramente facile riuscire a entrare all'interno della tenda. Una porta che è costituita da una cerniera fatta bene con doppio cursore con anche vari strappi per andare a leggere la tensione sulla tenda. In generale devo dire una porta abbastanza semplice che si può naturalmente andare a richiudere per evitare che svolazzi. Una volta aperta la nostra porta si rivela un abside abbastanza grosso. Dove dire che l'abside mi ha veramente sorpreso per le sue dimensioni. Troviamo un abside dove è sicuramente facile andare a riporre uno zaino anche da 50-60 litri senza nessun problema. Ci stanno anche gli scarponi. Davvero ci sta tutto all'esterno poi di quello che è il telo interno della tenda. Un abside dove è comunque un po' difficile cucinare più che altro perché la tenda è piccola. Quindi il telo non essendo neanche troppo ignifugo questo potrebbe creare qualche problema. Però in generale devo dire che dal punto di vista della grandezza dell'abside mi ha veramente sorpreso per le sue dimensioni. La parte interna poi si va ad aprire con un'altra zip doppia fatta bene anche lei. Molto lunga. Quindi devo dire che con questa zip veramente così lunga è veramente semplice riuscire a infilarsi all'interno. Anche se poi la parte interna della tenda adesso la vediamo è veramente piccola. Parlando della camera interna di questa Piumo 1 non posso entrare a farvela vedere perché la parte interna è veramente piccola. Come vi dicevo le sue dimensioni sono estremamente ridotte. Nella persona ci sta dentro comunque senza nessun problema. È più alta di 1,90 m che sono alto 1,90 m ci sto senza tanti problemi. In larghezza lo spazio è un pochino quello che è e soprattutto nella parte finale dei piedi anche lì lo spazio è abbastanza poco. L'aspetto secondo me è più problematico con questa tenda che magari alcuni tipi di mattrassini non ci stanno in larghezza. Soprattutto vi sconsiglio di prendere mattrassini troppo alti perché vi alzerebbero troppo. Sicuramente dateci un occhio alle dimensioni quando dovete comprare il mattrassino per questa tenda per essere sicuri che ci stia. Per quanto riguarda poi una volta che ci si mette all'interno per dormire devo dire che di spazio in altezza comunque ce n'è. Nel senso che il telo non va a caderci addosso soprattutto se non abbiamo mattrassini troppo alti. Per quanto riguarda i materiali il telo esterno è infatti un nylon ripstop 20D con 2000 colonne d'acqua e invece il telo interno del catino un 30D con 3000 colonne d'acqua. Quindi dal punto di vista dell'impermoralità nessun problema. Poi la tenda è abbastanza bassa quindi anche dal punto di vista del vento non ha nessun problema. Anche qua per quanto riguarda le cuciture devo dire fatte veramente bene tutte termonastrate tutte doppie. Nei punti in cui c'è maggior pressione ci sono un doppio tipo di tessuto quindi sicuramente anche da questo punto di vista sia sull'esterno sia sull'interno. Ferrino si rivela un'azienda che a livello di qualità dei materiali non ha nessun problema. Per quanto riguarda la condensa come dicevamo ha due aperture che vanno a garantirgli un certo flusso d'aria diciamo che dal punto di vista della condensa è nella norma. Non è sicuramente una tenda super areata ma non ha nemmeno qualche problema. Da poi sicuramente il fatto che sia a doppio telo ne giova a suo vantaggio. La parte interna di telo come abbiamo visto è tutta completamente zanzariera quindi se troviamo delle notti in cui dovesse fare tanto tanto vento possiamo cercare di abbassare la tenda ma comunque un po' di vento all'interno lo sentiamo. Per quanto riguarda gli accessori che troviamo all'interno della tenda non ne troviamo tanti però sono gli essenziali. Troviamo una comanda tasca posta sulla parte di destra vicino alla testa dove andare a riporre qualche oggetto. Troviamo nella parte superiore un gancetto per riporre la lampada e poi troviamo nella parte sommitale dove va la testa una zip che ci permette di aprire il telo interno della tenda così da poter recuperare qualcosa che abbiamo messo nel catino. Devo dire che con le mie soluzioni mi è piaciuta molto perché ci permette davvero in 4-4-8 poter riprendere qualcosa dalla parte esterna senza dover stare ad aprire la porta o comunque dover uscire dalla tenda. Ecco che questa è sicuramente una tenda pensata per quando si va a fare un trekking ci si ferma e si dorme. Non è sicuramente una tenda pensata per essere vivibile. Non è sicuramente una tenda pensata per russarci all'interno e magari passare un po' di tempo. Banalmente è anche semplice doversi cambiare i vestiti all'interno di questa tenda è veramente difficile se non impossibile. Ma arriviamo dunque alle conclusioni per questo afferrino piuma 1. Innanzitutto esiste una versione da un posto, quella che abbiamo visto, e della versione da due posti che come caratteristiche pressoché identica pesa naturalmente di più, è più grossa per essere da due persone. Quello che mi ha stupito di questa tenda è il suo peso perché parliamo di 950 grammi, riducibili fino a 830, nel caso in cui dovessimo lasciare a casa qualche oggetto come ad esempio il kit di riparazione fornito in dotazione. È una tenda veramente leggera, probabilmente la più leggera mai prodotta da afferrino ad oggi. È una tenda che io personalmente vi consiglio per trekking dove però dobbiamo sicuramente tenere in considerazione che non abbiamo spazio vivibile all'interno. Questo cosa vuol dire che se dovessimo trovare dei giorni di pioggia e dovessimo passare del tempo all'interno, ecco, la situazione può diventare abbastanza difficile. È una tenda da trekking che poi costa sui 240-250 euro online. È una tenda da trekking sicuramente pensata per persone che fanno dei trekking abbastanza impegnativi, dei trekking dove veramente vogliamo risparmiare fino all'ultimo peso. È una tenda da trekking che personalmente non vi consiglierei se siete alle prime armi, più che altro perché dovete saperla gestire, sapervi gestire anche in funzione della tenda con questi minimi spazi. È una tenda da trekking che personalmente utilizzerei davvero per fare dei cammini anche lunghi dove vogliamo risparmiare fino all'ultimo peso. Etto, ciao ragazzi, la speranza sia stata esauramente esastiva anche per questa recensione. Vi ringrazio della guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!